Giornata molto importante per l'Associazione, per Città Sloan International, l'Assemblea Internazionale 2020, grande difficoltà per la problematica della pandemia, il Covid-19, ha dato gran da fare all'Associazione, alle nostre città, tuttavia è il nostro compito, dobbiamo necessariamente ripartire, dobbiamo ripartire nel giusto modo. Città Sloan riparte, dopo sei anni della mia presidenza, della quale sono molto orgoglioso per il lavoro fatto, per tutti i contributi che le singole città hanno dato alla nostra associazione, ma è il momento di passare il testimone ad un altro sindaco che ha dimostrato nel governare la sua città, nella partecipazione dell'Associazione, un grande spirito di iniziativa e la volontà di andare oltre. Il Città Sloan ha bisogno di andare oltre, ha bisogno di essere la bussola del futuro, dello sviluppo del futuro, dobbiamo essere capaci di raccontare al mondo quanto sia importante recepire i principi Città Sloan per ripartire dopo la pandemia, quando la pandemia sarà passata, ma anche adesso. Pensate, i nostri borghi, le nostre città sono l'elemento che meglio di tutti ha resistito alla pandemia e proprio da questo dobbiamo ripartire. Lo facciamo con una persona eccezionale, Mauro Migliorini, il sindaco di Asolo, che ci guiderà per tre anni dopo il Covid, ma ben oltre, verso il futuro delle nostre città, verso il futuro delle città Sloan. Aguri a Mauro e in bocca al lupo a tutta l'associazione. Sono sicuro che ci aspetto un futuro eccezionale e straordinario. Grazie a tutti.